Aldo, dovrei chiamarti professor Morrone, ma noi ci conosciamo da troppi anni. Cominciamo dai passi più recenti del tuo lungo e anche instancabile cammino. Parliamo del tuo libro intitolato Covid-19 tra mito e realtà, luci e ombre della pandemia che ha travolto il pianeta. Perché hai sentito l'esigenza di scriverlo e a chi andranno i fondi del ricavato delle vendite? Ma intanto l'esigenza è nata dalle telefonate, dall'email che ricevevo da tantissime persone che erano impaurite, erano stravolte da questa pandemia davvero che ha stravolto il mondo. E in particolare il nostro paese con quei terribili giorni in cui c'era la numerazione delle persone che morivano in una maniera drammatica. Poi c'è stato l'elemento delle cattive notizie, delle false notizie, e quindi la necessità e la richiesta di scrivere un libro che ridesse almeno speranza, che facesse chiarezza su questa pandemia, come era nata questo salto di specie, questa distruzione del pianeta che ha portato al salto di specie e alla nascita di questo nuovo virus. E soprattutto il tentativo di utilizzare questo libro perché tutto il ricavato del libro andrà per ricostruire l'ospedale Mario Maiani in Sceraro, in Tigra, in Etiopia, saccheggiato e distrutto durante questa guerra assurda che è stata scatenata a novembre 2020 e che ancora oggi purtroppo sta ammietendo vittime, abusi, violenze in un territorio grande quanto un quarto dell'Italia, con sei milioni di abitanti, una guerra veramente assurda durante la pandemia e durante la carestia. Quindi noi vogliamo restituire questo ospedale al popolo che vive a Sceraro, in Tigra. E tu lì hai lasciato il cuore, come leggo sul tuo profilo Facebook. Ho lasciato il cuore e devo dire che sono stato ammaliato da questa popolazione generosa, straordinaria che pur in una condizione di povertà estrema si prende carico, si fa carico delle persone più sole, più abbandonate di loro e quindi cerca di restituire salute e dignità. I medici sono straordinari, gli infermieri, ma tutto il popolo che ha lavorato anche alla costruzione dell'ospedale, facendo strade, cercando di piantare alberi in una zona desertica, portando l'acqua, portando l'elettricità. Devo dire che è un'operazione, un'impegno che mi hanno commosso. Tu curi da sempre gli ultimi della terra, in Italia e all'estero, a cominciare dall'ospedale San Gallicano di Roma, di cui hai fatto poi un modello da esportare. Che cosa ti spinge da sempre verso le persone più fragili? Intanto non posso nascondere che c'è una componente etica che credo sia comune a tutti noi medici, a tutti noi operatori sanitari, quella di una maggiore attenzione nei confronti di chi ha più bisogno di noi e quindi da qui nasce un'attenzione di prenderci cura delle fasce più fragili e marginali della nostra città o delle altre città del mondo, delle aree rurali di tutto il mondo. E poi dentro c'è anche una logica di politica sanitaria, cercare di spiegare ai rappresentanti istituzionali del nostro paese, mondiali, che se io non investo nel recuperare la salute dei più poveri non ci sarà mai sviluppo economico in nessun paese. Il binomio purtroppo malattia-povertà è molto forte, posso spezzarlo soltanto se cerco di restituire salute ai più poveri in modo tale che queste persone possano avere un futuro e determinare così anche il futuro di una nazione, di un popolo. Quindi ci sarà una doppia logica, una logica etica e una logica di politica sanitaria. Ma tutti siamo uno, insomma, il male dell'altro è anche il nostro male. Non c'è più questa differenza che è più nella testa delle persone tra chi hai e chi non hai. Se il contagio colpisce una persona che comunque non fa parte della nostra comunità, non è detto che poi questo contagio non arrivi anche a noi, insomma, quindi dovremmo superare un po' queste ideologie errate. Ma il paradosso è che c'è voluto più l'intervento di un Papa, che non è certo un esperto di scienza e di medicina, che ha sottolineato che da questa pandemia o si usciva tutti insieme o nessuno ne sarebbe uscito da solo. C'è voluto il suo intervento, soprattutto durante il lockdown del 2020, quando davvero la paura, l'angoscia si era ormai diffusa tra noi tutti italiani e lui ha avuto il coraggio da solo in quella notte di pioggia a San Pietro di mettersi in preghiera perché non certo Dio allontanasse questa pandemia che non aveva certamente voluto, perché questa pandemia, lo ricordo, è dovuta ad una logica di distruzione del pianeta, di disattenzione nei confronti delle foreste, degli esseri animali, degli esseri vegetali, di tutte le creature. Però questa sua volontà di pregare per cercare di restituire fiducia e speranza mi ha molto colpito. E questa idea che il vaccino è per tutti o è per nessuno, l'idea che l'altro è determinante nei confronti della mia salute, al di là delle diverse confessioni religiose possibili o anche nell'assenza di confessioni religiose, c'è una visione laica profonda del rispetto dell'altro che è determinante per lo sviluppo della mia salute, della mia dignità e del mio futuro. Qui cito una frase di Papa Francesco che tu hai riportato, globalizzazione dell'indifferenza, ecco perché ci deve fare tanta paura questa indifferenza. Lui aveva cominciato con un'altra frase che mi aveva molto colpito e che era la cultura dello scarto. In ospedale, nel mondo sanitario, c'è spesso questa cultura dello scarto. Quando un paziente è molto anziano e ha più patologie, spesso gli si dà molta meno attenzione nei confronti di un paziente giovane con patologie magari rare che possono determinare anche un successo accademico a dei medici che si occupano di patologie rare e possono pubblicare articoli scientifici molto importanti. Per cui accade, e molti di noi hanno sperimentato, chi ha un familiare che è anziano e con tante patologie, ha difficoltà di essere accolto in ospedale, di essere curato, e soprattutto a Roma c'è un'espressione terribile sullo scarto. Questo è uno scarto. Lui si rivolse fortemente contro questa cultura dello scarto e contro questa cultura dell'indifferenza. Nel nostro mondo, devo dire, spesso si osserva questo e non è tanto una differenza di genere. Esiste una differenza di genere sulla salute, una differenza di genere uomo-domma, ma anche una differenza di genere in termini sociali. I più poveri in questa pandemia hanno pagato un prezzo inenarrabile, un prezzo altissimo nei confronti di chi non era povero. E questo è un fatto che mi ha molto colpito. Ecco perché abbiamo deciso di intervenire, di fare tutta una serie di iniziative per andare alla ricerca dei più fragili, dei più immarginati all'interno della nostra città e delle città del resto del mondo. Io ti ricordo anni fa davanti alla stazione Tiburtina quando avvicinavi gli extracomunitari che non potevano essere curati nel vicino centro di accoglienza. Non si sa perché. Ecco, poi per non parlare della tua attività a Lampedusa, quando andavi in mare incontro ai migranti per abbracciarli senza guanti, perché comunque hai sempre sostenuto che eravamo più ammalati noi, infatti poi si ammalavano dopo essere sbarcati magari di gastrite o di stress. Ecco, adesso appunto so che con una task force che è in carico per conto del Vaticano oppure proprio senza fissa dimora della capitale. Insomma, parlaci un po' di questa tua ultima esperienza. Intanto devo dire che io sono stato soggiocato dalle persone che vivono per strada da tantissimi anni. Uno dei miei più grandi collaboratori che mi diceva che gli dovevo molto, era una nota persona senza fissa dimora a Roma, a Trastevere, lo conoscevano tutti, si chiamava John, ed era una guida turistica che era venuta in Italia dalla Gran Bretagna del 75, per l'anno santo del 75, e mi spiegava l'importanza di vivere per strada. In realtà viveva in condizioni davvero drammatiche, aveva il diabete, aveva un'ulcera, facevamo del tutto per poterlo curare nel rispetto delle sue idee, tra l'altro che era quello che la pulizia, il lavaggio con acqua e sapone poteva determinare malattie, e quindi trovavamo tutti i modi incredibili per poterlo fare facendoli credere, però lo stavamo disinfettando. E questa attenzione ai confronti di questo mondo è un'attenzione particolare, perché ci insegna che la salute è legata molto ai determinanti sociali, e i determinanti sociali sono fondamentali. Ecco perché l'idea del nostro servizio sanitario è stata grande quando creò quella integrazione tra sociale e sanitario, che si chiamavano le USLE, unità socio-sanitarie locali. Poi si è perso questo socio, sono diventate USLE, unità sanitarie locali, poi si è pensato che l'aziendalizzazione avrebbe migliorato la performance, invece devo dire ha allontanato i più poveri, e ancora oggi noi abbiamo bisogno di rivolgerci a questa fascia di popolazione, perché spesso sono persone che hanno lavorato tutta la vita, che non hanno ancora pensione, che hanno avuto tragedie in famiglia. Devo dire che il percorso da una vita normale, tra virgolette, a finire per strada, talvolta è un percorso rapidissimo, in pochi mesi, dopo il licenziamento, dopo la perdita della famiglia, dopo la perdita di un affetto, e ho sempre pensato che se mi fosse capitato avrei avuto piacere che qualcuno mi avesse dato una mano per uscire dalla strada e rientrare in una società che forse mi aveva allontanato, ma che mi dava un'ulteriore possibilità. Quello dell'integrazione sociosanitaria è importante, molte di queste persone hanno diritto alla pensione sociale e non lo sanno, hanno diritto a ritrovare la propria identità, la propria vita e un futuro. Noi dovremmo investire maggiori risorse professionali, finanziarie e strutturali nei confronti di queste persone, perché lo ricordo, la stragrande maggioranza delle vittime del Covid e noi nel nostro paese l'abbiamo avuto nell'RSA. Nell'RSA non ci finiscono le persone ricche, ci finiscono le persone più fragili e con maggiori difficoltà. Forse dovremmo rivedere questa nostra organizzazione della salute nel nostro paese. Aldo, ma perché persone come Gino Strada e io ritengo anche come te, hanno tanta difficoltà ad essere comprese dai cosiddetti ben pensanti della società? Magari persone che vanno in chiesa tutti i giorni si fanno il segno della croce. Ecco, tu però non ti sei mai fermato come Gino Strada, siete stati nei paesi più difficili del mondo. Insomma, la forza per andare avanti, da dove ti viene? Intanto dalle persone che io incontro, dalle persone che cerco di curare, di cui cerco di volermi curare, in realtà è un gioco delle parti. È chiaro che la loro realtà, il loro pensiero, la loro forza sono quelli che ti danno la forza, sono quelli che noi chiamiamo i pazienti, in realtà sono le persone malate o a rischio di ammalarsi, ti insegnano un nuovo modo di fare la vita, ti insegnano un nuovo modo di intendere il senso della vita, della vita, della morte, della sofferenza, ti insegnano anche un modo nuovo di fare scienza. Io devo dire che Gino Strada è stato, a mio parere, un maestro, una persona straordinaria, uno veramente, ce ne vorrebbero tantissimi come lui. Io spesso l'ho incontrato, spesso abbiamo parlato e poi io feci la scelta di rimanere dentro l'istituzione pubblica, dentro l'istituzione clinico-scientifica, perché ritenevo che noi avremmo dovuto utilizzare anche una componente scientifica istituzionale per evitare che poi l'aiuto ai più poveri si limitasse, come dire, una pacca sulle spalle oppure un po' di incoraggiamento. Io ritengo che anche i poveri abbiano diritto alla utilizzazione delle scoperte scientifiche più nuove. Devo dire che questo accade soprattutto per i più ricchi. ormai è dimostrato che l'utilizzazione delle terapie più nuove, delle terapie più efficaci e anche più costose vanno sempre nei confronti delle persone più ambienti. Invece noi dobbiamo fare esattamente l'opposto, offrire ai più immarginati le terapie, le conoscenze scientifiche straordinarie. Ecco perché con Cardinal Korat-Klejeski, con il gruppo di medicina solidale in Vaticano e con gli altri gruppi della stazione Termini che sono appunto due centri particolari di aggregazione delle fasce più marginali, noi abbiamo cominciato a fare per esempio i vaccini più moderni, le indagini scientifiche più serie perché hanno diritto a utilizzare i risultati della ricerca tecnologica e scientifica che è fatta per tutti, altrimenti la scienza non ha senso se si limita a se stessa o alle persone più ricche. Ecco, tu non sei mai stato un sostenitore delle medicine soprattutto quando non le ritenevi necessarie. Ecco, però in questo momento con questa pandemia vaccinarsi è importante. Io sono sempre stato dalla parte di chi diceva che ci sono troppe medicine in gran parte inutili. Devo dire proprio l'altro giorno l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha reso noto l'elenco aggiornato delle medicine essenziali, quelle veramente efficaci nel mondo sono davvero pochi insomma non più di mille duemila principi attivi il resto devo dire è fumo negli occhi. Devo dire che però per quanto riguarda i vaccini ho sempre avuto l'idea che invece i vaccini fossero fondamentali fossero un'arma fondamentale non l'unica ma una delle armi più potenti. Mi sono battuto per vaccinare dei paesi impoveriti io li chiamo impoveriti perché questi non sono paesi nati poveri ma diventati poveri perché altri paesi sono diventati ricchi soprattutto il vaccino contro il morbillo il vaccino contro la malaria tantissimi vaccini oggi oggi su tutti i giornali è riportata la notizia che l'OMS ha approvato un vaccino contro la malaria io ho lavorato anni sui vaccini contro la malaria sulle terapie contro la malaria devo dire che io ho lavorato per anni con il dottor Tedrosa Domenon Gabrielsus l'attuale direttore generale dell'OMS che allora era direttore sanitario è diventato poi ministro della sanità del Tigrai e lui nasce come esperto in malariologia era un malariologo si occupava ci siamo occupati della malaria la malaria colpisce più di 300-400 milioni di persone mezzo milione di persone muoiono ogni anno più della metà sono bambini allora è chiaro che i vaccini sono importanti anche in questo momento i vaccini sono importanti ecco perché non capisco questa assurda idea che noi stiamo arrivando alla terza dose che ritengo importante e su cui sono favorevole ma centinaia di milioni di persone non hanno ricevuto neanche la prima dose non hanno ricevuto neanche altri vaccini quindi questa idea della salute localizzata solo nei paesi occidentali o nei paesi ricchi è destituita di ogni fondamento scientifico oltre che di ogni idea di solidarietà senti ma perché si è perso il rapporto fiduciario infatti di questi giorni lo dimostrano tra medico e paziente perché tutto si risolve anche nella firma di alcune carte in cui poi è il malato che si assume la maggior parte delle responsabilità insomma dove e quando i medici hanno sbagliato se hanno sbagliato noi abbiamo sbagliato sicuramente abbiamo sbagliato sicuramente a non credere più nell'autorevolezza che rappresentavamo dal punto di vista clinico e scientifico e probabilmente abbiamo accettato la logica del profitto lo dico con molta con molta franchezza non c'è stata più quella trasparenza nelle intenzioni che era fondamentale dimostrare ci siamo limitati a far firmare ai pazienti alcuni fogli di cui capivano poco o niente perché perché la logica è stata quella di trasformare il servizio sanitario nazionale l'attenzione nel rapporto tra persone malata e medio o per autore sanitario in genere in una logica di numero di prestazioni sanitarie erogate in una logica di profitto se io erogo tante prestazioni riesco a realizzare dei profitti e quindi il medio viene valutato per il numero delle prestazioni non più per la qualità spesso le direzioni generali io ho fatto anche il direttore generale dell'ospedale San Camino Portanini devo dire non chiedono più ma poi il paziente è guarito è andato via bene era contento era soddisfatto avete creato un rapporto c'è un rapporto di fiducia no spesso si chiede quante prestazioni lei ha erogato perché perché nell'interno del servizio sanitario è nata l'industria sanitaria l'industria ovviamente delle istituzioni sanitarie l'industria dei fabbricati l'industria edilizia sanitaria l'industria della tecnologia sanitaria e lì si è infiltrato una logica di profitto pericolosa attenta più al guadagno che non alla tutela della salute e della dignità delle persone e questo è stato a mio parere un nostro grande errore di non esserci opposti ad una visione delle istituzioni sanitarie che non sempre sono state trasparenti oneste nella gestione della salute nel nostro paese e della sanità Aldo siamo in questi giorni insomma si celebra la giornata nazionale delle vittime del lavoro giornata che l'AMNIL celebra in tutta Italia e stiamo parlando di persone con grandi fragilità con menomazioni persone che hanno subito lutti ecco colpevoli lo ripetiamo per l'ennesima volta soltanto di essere andate a lavorare ecco come ci possiamo relazionare con questa umanità colpita intanto grande rispetto nei confronti di queste persone grande rispetto e solidarietà nei confronti delle famiglie che spesso perdono perdono degli affetti in maniera così drammatica così assurda primo secondo eliminiamo questa ipocrisia che sento spesso da parte dei rappresentanti istituzionali che si dolgono il petto il giorno dopo aver scoperto che si muore di lavoro da anni mi occupo della lotta contro non quelli che vengono chiamati incidenti sul lavoro a volte neanche morti bianchi a volte sono dei veri e propri assassini come ho visto per esempio nell'ambito delle costruzioni edili dove persone non non gli viene neanche insegnato né c'è rispetto per le norme poi quando accadono questi incidenti soprattutto con lavoratori come dire irregolari vengono fatte delle messe in scena perché appaiono incidenti automobilistici cioè è necessario nel nostro paese un investimento sulla sicurezza sul lavoro sul controllo da parte degli ispettori dei ministeri su una logica di attenzione particolare che la vita degli operai la vita delle persone che lavorano soprattutto delle donne una vita è sacra e quindi non c'è nessuna logica di profitto che possa compensare la perdita di una vita o la menomazione di un soggetto che si ritrova a vivere menomato e quindi all'interno di questa nostra società la menomazione diventa un elemento di un'ulteriore emarginazione ci vuole un impegno serio un impegno quotidiano non soltanto dinanzi alla notizia di queste morti drammatiche perché molte di queste morti si potevano evitare e quindi io spero che i nostri rappresentanti istituzionali investono molto di più in termini di sicurezza sul lavoro e non vedo ancora questo investimento e non vedo ancora una sorta di pentimento dei rappresentanti istituzionali che avrebbero potuto fare di più e invece non lo hanno fatto senti tu di storie da raccontare ne hai tantissime ma ce n'è una in particolare che nel tuo percorso professionale ti ha colpito devo dire che io ho tantissime storie in Italia e tantissime storie nei paesi come l'Africa come il Libra il Medio Oriente l'America Latina adesso mi viene in mente a proposito del mondo del lavoro di una paziente che io seguivo e che di mestiere faceva la ladra era una grande ladra molto brava devo dire e anche molto bella questa persona ma per poter continuare questo lavoro ovviamente doveva anche drogarsi doveva utilizzare eroina e cocaina e proprio perché io vi spiegavo che il danno non era della sua salute dal fatto che rubasse ma dal fatto che utilizzasse queste droghe alla fine ho convinto a smetterla ma lei mi diceva ma qual altro lavoro potrei fare ma una persona così intelligente così brava come si bella non potrebbe fare altro che il lavoro di medico o di infermiera bene la faccio breve siamo riusciti a fare inserire un corso allora c'era un corso universitario come c'è adesso di scienza di infermieristica si è laureata è diventata una delle caposale più brave che io conosco in Italia con un'attenzione particolare nei confronti delle persone disagiate o marginali e devo dire che è stato uno dei più grandi successi della nostra vita da parte sua ovviamente questo suo impegno e questo è un insegnamento che quando uno pensa che la vita è perduta non c'è più speranza invece veramente si può rinascere esiste la resurrezione nella vita di ogni giorno e questo è veramente un miracolo grazie a questa donna straordinaria ho imparato tante cose certo anche perché a volte gli eventi negativi possono essere anche un elemento per poi rinascere in forme diverse magari anche più belle più di soddisfazione per se stessi e anche per gli altri senti ma parlando di alcuni soccorritori penso anche alle forze militari insomma che ti hanno affiancato nell'accogliere chi arrivava da molto lontano ecco tu hai scritto ti cito credo che ragazzi che così siano la parte migliore dell'Italia non possiamo dimenticare quanti nostri connazionali sono sbarcati ad Ellis Island per essere tenuti in quarantena siciliani veneti piemontesi ma tu hai fiducia nei giovani e poi anche non dimenticare quello che siamo stati è una fiducia straordinaria perché sono quelli che davvero credono e si impegnano concretamente sono quelli che Greta dice non come i nostri rappresentanti istituzionali bla 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 magari pochi bla ma tantissimi interventi concreti una vita fatta di testimonianze di impegno di sacrificio che poi portano avanti nella vita perché la stragrande maggioranza delle persone che ho incontrato che vive nel nostro paese in generale in tutti i paesi dove sono stato è una maggioranza di persone che crede davvero nella solidarietà nell'impegno nell'attenzione e farsi carico delle persone delle realtà accanto a noi ed è questo è molto bello così come io ho avuto l'esperienza di tutti come dire i lavoratori delle forze dell'ordine delle istituzioni che a differenza dei rappresentanti istituzionali mi hanno insegnato ogni giorno l'impegno per esempio a Lampedusa per recuperare la gente che cadeva in mare dai barconi oppure negli incendi le persone che lavorano in carcere nei confronti delle persone detenute nei CPR io ho incontrato un mondo straordinario formato da queste persone e io sentivo che questi sono dei veri eroi di cui il paese si ricorda raramente i vigili del fuoco che ho incontrato in situazioni di emergenza se ne ricorda raramente e io ho scritto anche che queste persone meriterebbero un'attenzione maggiore e anche un riconoscimento economico del loro lavoro perché lo fanno ogni giorno perché sono degli eroi del quotidiano non degli eroi di una volta o sola nella vita e noi dovremmo avere più attenzione nei loro confronti e più gratitudine nei loro confronti io per esempio penso anche a tanti usceri a tante persone che fanno dei lavori apparentemente umili io per esempio se non ci fossero stati i portieri del San Gallicano a fare entrare le persone senza fissa dimora con le loro buste e con tutto il materiale con cui convivevano probabilmente non sarei mai riuscito a visitarli Amore per l'altro ecco questo è anche un modo di declinare questo sentimento insomma in quanti modi noi possiamo amare l'altro Devo dire che questo amore si esprime ogni giorno con una tale discrezione che mi colpisce molto la discrezione di quando io tentavo in maniera molto molto pudica e anche con molta attenzione sui balconi quello di accarezzare le mani delle persone che arrivavano perché la carezza sulle mani è accettata praticamente da tutte le culture e percepivano che ero lì per tentare di aiutare io credo che ci siano persone che ogni giorno ci danno una carezza una carezza reale una carezza virtuale che ci aiuta ad andare avanti io lo trovo molto bello un po' come l'incontro tra il piccolo principe e la volpe quando la volpe insegna al piccolo principe l'essenziale il segreto che le rivela alla fine che dice l'essenziale è invisibile agli occhi non si vede bene con il cuore lui l'aveva imparato da questa sua da questa sua rosa meravigliosa che aveva lasciato sul pianeta e quando vede questo giardino pieno di rose dice ma come io credo che la mia fosse unica nell'universo poi va più vicino a queste rose dice ma io adesso ho capito che la mia è unica perché è la rosa alla quale ho dedicato il mio tempo io credo che tutti noi avremo questa scoperta meravigliosa sull'amore nel momento in cui comprendiamo il tempo che abbiamo dedicato alle persone che amiamo grazie Aldo ecco ma per concludere come si può fare per raggiungerti per avere un tuo consiglio o anche soltanto una parola di conforto ci puoi dare qualche riferimento devo dire che io ho una mail pubblica perché lavorando dentro un'istituzione pubblica questo è molto bello a noi tutti sia chi è il direttore sia chi è l'ultimo degli usceri abbiamo di mail del San Gallicano che essendo un istituto di ricorso di cura di carattere scientifica la mia mail è molto semplice il nome il punto il cognome e poi questo istituto si chiama formalmente ifo.gov.it io ricevo tantissime mail devo dire anzi mi scuso molti le trovo tardi molte finiscono nello spam allora ogni volta che rispondo mi scuso anche del ritardo e devo dire che le persone sono talmente carine e con grande delicatezza mi dico no no non si scusi è molto bello e lei ci risponde anche se con un certo ritardo e quindi sicuramente l'email dell'ospedale San Gallicano che devo dire ormai è noto perché fu fondato nel 1725 da Papa Benedetto XIII tra poco festeggeremo 300 anni di storia è una cosa meravigliosa e speriamo di metterci molto meno per recuperare quel rapporto fiduciario tra medico e paziente che purtroppo in parte si è perso ma che ci sarebbe tanto bisogno di recuperare allora grazie al professor Aldo Morrone e buon buon lavoro anche perché mi sembra di capire che la strada richiede ancora tantissimo impegno grazie tanto grazie a te Lucia Tommasi giornalista straordinaria che ho incontrato nella mia vita che come altre persone mi ha insegnato tantissime cose di cui sono ancora grato e grazie a coloro che ci ascoltano e grazie a tutti i tecnici che hanno permesso questa intervista grazie grazie davvero a prestissimo